Abbiamo scelto questa location straordinaria, Villa Imperiale di Pesaro, che è un po' il simbolo della bellezza della nostra provincia, per presentare la quinta edizione dell'itinerario della bellezza. Quinta edizione rinnovata, anche dal punto di vista grafico, ma soprattutto ricca di nuovi comuni, nuove entrate, che hanno portato a 16 il numero dei comuni che partecipano a questo progetto. L'itinerario della bellezza, lo dico spesse volte, non è solamente una nuova guida, una guida turistica, è un complesso progetto di marketing turistico che mette in campo tutte le strategie e tutti gli strumenti per promuovere e valorizzare i comuni che hanno deciso di affidarsi alla Confcommercio per la valorizzazione e la promozione delle proprie eccellenze. L'ingresso di San Lorenzo in campo a Pecchio e Cantiano quest'anno rende più bella la guida, ma soprattutto offre al turista un panorama completo di quella che è l'offerta culturale e ambientale della provincia di Pesaro Rubino. È un onore appunto far parte di questo itinerario perché ha dato modo al nostro comune di una grande estensione, oltre 70 km2, ma di pochi abitanti, di far conoscere appunto l'Italia e anche all'estero le nostre bellezze, bellezze che altrimenti rimarrebbero sconosciute se non avessero la giusta promozione. Si pensi all'itinerario della bellezza ma anche all'itinerario archeologico che ha permesso di valorizzare il nostro ipogeo di piagge anche a livello nazionale, la borsa dell'archeologia di Pompei e anche alla BIT, la borsa italiana del turismo di Milano. La prima volta insieme a altri due comuni che entriamo a far parte di questo circuito che ormai consta di 16 comuni che mettono in rete le loro ricchezze, le loro bellezze, perché si chiama itinerario appunto della bellezza, perché queste rappresentino veramente una risorsa, un'attrattiva maggiore per i flussi turistici. Quindi siamo molto contenti, ci crediamo molto nelle possibilità che ci si aprono e siamo molto fiduciosi che questo attirerà sempre più turisti nel nostro territorio.